I numerosi sfollati teramani fuori casa da oltre tre anni da oggi riceveranno le chiavi dei nuovi appartamenti acquistati per loro dall'Ater Teramo grazie ad una legge varata dall'ex Giunta D'Alfonso. Un traguardo importante raggiunto grazie alla stretta sinergia di tutte le istituzioni che sono riuscite a concretizzare quel provvedimento. L'attuale Giunta regionale, la protezione civile, l'Ater e l'amministrazione comunale di Teramo. E così 50 delle 85 unità abitative destinate al comune di Teramo saranno assegnate in questi giorni. Per le altre 35 ci sarà bisogno di un nuovo bando. Rientrano a casa finalmente gli sfollati di Teramo? Non rientrano nella loro casa. Questo è importante però ricordarlo subito. Nel senso che questo è un intervento importante. Si rientra in una casa, una casa che nasce all'esito, che viene concessa all'esito di una procedura lunga su cui abbiamo lavorato tutti in sinergia. Però diciamo sempre una cosa, ribadiamolo sempre. L'obiettivo è la ricostruzione. L'obiettivo appunto è far tornare i nostri cittadini nelle loro abitazioni e quindi dobbiamo andare avanti in quella direzione. Questo però è solo il primo bando. Adesso ce ne sarà un altro. Sì, tendiamo il numero definitivo delle case che l'Ater ha acquistato. Fino a qualche tempo fa erano 85, adesso se ne consegnano 50. Noi siamo già pronti per avviare il secondo bando e assegnare subito le case che sono rimaste. Purtroppo le misure di contenimento del Covid-19 hanno imposto all'Aterteramo la consegna scaglionata dei nuovi appartamenti. Nella giornata odierna ne sono stati consegnati sette per proseguire poi allo stesso ritmo nei prossimi giorni. Soddisfatta dell'obiettivo centrato, la Presidente Maria Ceci. Grande soddisfazione, una grande soddisfazione soprattutto perché riusciamo oggi a consegnare le chiavi in una fase che non può essere ancora definita post-emergenziale, in una fase ancora di emergenza sanitaria. Per cui sicuramente questo dimostra l'impegno dell'Ater per garantire questi risultati. Ma un impegno che sicuramente è il frutto di un lavoro sinergico svolto con la Regione Abruzzo, con la protezione civile e soprattutto con il Comune di Teramo.